ciao a tutti i ragazzi bentornati su waghitaly ora oggi siamo qui con una golf gt 2018 di importazione tedesca la macchina monta i fari pxc top di gamma con lava fari monta la front camera che però era utilizzata solo decisivamente per muovere i fari dinamici abbiamo quindi attivato il lane assist emergici break assist anche la visualizzazione dei cartelli stradali la macchina equipaggiata con l'allarme di serie infatti se la apriamo abbiamo il bip dell'allarme che abbiamo attivato anche in chiusura sentite doppio bip dopo in apertura e singolo in chiusura i cerchi sono dei pretoria 18 cana di fucile molto belli sempre belle le pinze gt rosse chiaramente la macchina anche mappata abbiamo anche andiamo dietro come faccio vedere un bel doppio scarico con estrattore dopo ve la facciamo sentire anche in moto andiamo dentro vediamo un attimo allora la macchina e oltretutto ha il tetto apribile come vedete bello sempre golf che è un tetto apribile molto molto grande per prima cosa vedete già il cruscotto stile golf r accendiamo la macchina staging lancette cruscotto r abbiamo inoltre messo la mappatura diciamo dei dei colori in base al profilo di guida per cui andando poi a vedere qua nella radio se noi cambiamo il profilo di guida abbiamo un colore diverso per ogni profilo il proprietario ha chiesto di avere il verde per l'individuo l'eco come vedete è questo blu poi abbiamo il normal viene fare un bel giallino lo sport il classico rosso e poi ovviamente nella possibilità della configurazione della macchina dove vi sono appunto nel nuovo menu luci soffuse abbiamo appunto la combinazione di automatico proprio perché abbiamo connesso i colori ai singoli profili è chiaramente possibile anche rimettere una configurazione manuale scegliendo poi vedete in una scala di dieci colori il colore che preferiamo in questo caso vedete lo possiamo anche volendo lasciare giallo cos'altro abbiamo attivato negli assistenti di guida qui c'è il grosso del lavoro abbiamo appunto attivato il lane assist con tutte le opzioni aggiuntive possibili compreso l'intensità segnale che non c'è neanche nelle macchine che hanno il lane assist di serie visualizzazione dei cartelli stradali nel cruscotto con anche la possibilità di avere l'avviso sia acustico che acustico luminoso questo ci aiuterà a non prendere multe dopodiché torniamo un attimo nel menu abbiamo aggiunto apertura e chiusura appunto la conferma acustica che avete sentito del bip dell'allarme nel menu luci classico abbiamo aggiunto anche la possibilità di accendere e spegnere le luci diurne per quanto riguarda i fari direzionali abbiamo anche aggiunto lo vedrete dopo la possibilità di avere dei fendinebbia linkati appunto con le luci di svolta questo perché essendo una golf di importazione ha il paraurti con i fendinebbia classica delle macchine tedesche che in italia purtroppo non è questo allestimento non si trova qui vedete tutto il menu per quanto riguarda il quadro strumenti avete già visto un po il logo r abbiamo messo il fondo scala a 320 abbiamo messo l'effetto 3d con questi puntini dozzo ora ve li inquadro magari un po meglio vedete che si muovono anche in base poi al menu come vedete cambiando le vari visuali vengono poi a muoversi molto bello questo effetto sempre andando poi nei dati di marcia abbiamo aggiunto anche la quantità rabocco come vedete ci possono mettere dentro 10 litri adesso abbiamo messo appunto il menu luci diurne per cui adesso con il selettore la luce vedete impostato su zero possiamo spegnere le luci diurne per quanto riguarda il climatizzatore aggiunta la velocità della ventola come vedete anche in automatico di fabbrica non era disponibile abbiamo anche rimosso la memorizzazione del profilo di guida scusate dello stato del ricircolo dell'aria perché mentre se spegniamo la macchina con il circolo dell'aria acceso ce lo ritroveremo spento molto utile per quando ce lo si dimentica acceso ora adesso è giorno c'è molta luce però voglio fare un po di ombra come vedete abbiamo aggiunto il classica codifica cuore pulsante qui sul tasto start e stop sulla fatica a vedere comunque vi assicuro che lampeggia questo per farci trovare il tasto vedete qua anche i comandi abbiamo il mode appunto perché abbiamo molta letta di guida abbiamo anche la possibilità del cambio fra esc sport e anche tenendo lo spinto abbiamo anche la modalità esc completamente off quindi attivato disattivato vedete che quando lo teniamo spinto andiamo praticamente nella modalità della sc disattivato e siamo pronti per fare volendo un launch control vedete poi anche gli interni ve li faccio vedere sono i classici delle gt sempre bellissimi non vanno non passano mai di moda speriamo li abbiano messi anche nella golf 8 gt e tutto adesso vi faccio un po vedere i fari e anche lo scarico perché questa macchina qua è mappata fa un bel rumorino le altre attivazioni che abbiamo fatto in questa gol gt che essendo di importazione come dicevo prima vedete ai fendi nebbia abbiamo praticamente allineato le luci di svolta integrato nel faro insieme al fendi nebbia per cui quando si va a stersare vedete si è acceso sia il fendi che la luce di svolta che è posizionata qui una volta che si ritorna dritti vedete si spengono entrambe un'altra cosa linkata è l'abbagliante praticamente vedete insieme al fendi nebbia per cui vi è un lampeggio vedete si alza il faro e si accende anche il fendi nebbia altra attivazione carina facciamo finta che sia sera andiamo aprire il baule della nostra golf vedete i fari si accendono si accende anche la luce della targa per cui entrambi i fari ora sono accesi e di sera se qualcuno arriva da dietro diciamo siete visibili e non dovete più preoccuparvi che vi incorrano addosso eccoci ragazzi sentite lo scarico di questa gt mappa per morino è saluto ragazzi al prossimo video ciao ciao